Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una serie di incontri cruciali con i leader americani, tra cui il presidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump, per presentare il suo piano per la vittoria e rafforzare così il sostegno degli Stati Uniti alla causa ucraina. Incontrando Kamala Harris ha dichiarato, ho condiviso i dettagli del piano per la vittoria con la vicepresidente, è fondamentale per noi essere pienamente compresi e lavorare in totale coordinamento con gli Stati Uniti. Dobbiamo porre fine a questa guerra e raggiungere una pace giusta proteggendo le famiglie e i bambini ucraini dal male di Putin. Siamo grati all'America per il suo sostegno costante. Durante l'incontro con Joe Biden, Zelensky ha discusso ulteriori dettagli del piano, cercando di rafforzare le strategie per fermare l'invasione russa. Abbiamo coordinato le nostre posizioni, ha detto, e chiesto ai nostri team di avviare consultazioni per i prossimi passi. L'Ucraina e gli Stati Uniti sono stati fianco a fianco fin dall'inizio dell'invasione russa e la vostra determinazione è essenziale per la nostra vittoria. Infine, Zelensky ha avuto quella che ha definito una produttiva discussione con Donald Trump, presentando anche a lui il piano per la vittoria e analizzando le conseguenze della guerra. Condividiamo l'idea comune che la guerra in Ucraina debba finire, Putin non può vincere e gli ucraini devono prevalere, ha dichiarato Zelensky esprimendo gratitudine per l'incontro.